Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove a causa di lavori si registrano 3 km di coda tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze, 1 km di coda invece in direzione Livorno. A causa del traffico intenso in A1 rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante del Valico in direzione Bologna, rallentamenti ma a causa di lavori anche in A15 tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni, rallentamenti a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze tra Bargino e San Casciano in entrambe le direzioni, viabilità della città di Firenze e possibili disagi a causa di un incidente avvenuto in piazza Gino Bartali. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!